un saluto a tutti e in questo video vi farò vedere come fare del radiascolto montano semplicemente con un cellulare android praticamente un cellulare android può diventare una ricevente come questo qua io ho la licenza radio amatore e il nominativo quindi sono tra virgolette autorizzato a usare una rice trasmittente che trasmette su bande radio amatoriali come questa posso portarla a giro e posso anche utilizzarla ovunque io voglia purché trasmetta solo ed esclusivamente sulle bande radio amatoriali invece voi potete ascoltare solo ascoltare e non trasmettere sempre seguendo le normative che prevede la legge anche con un semplice cellulare ora vi faccio vedere cosa vi serve allora questa per adesso la mettiamo via potete vedere questa è una classica rice trasmette scanner che io utilizzo prevalentemente quando vado in luoghi un po più isolati inesplorati lo metto sulla frequenza una frequenza radio dove sono sicuro che probabilmente qualcuno sarà in ascolto e potrebbe essere molto utile in caso io abbia una necessità e non è meno un'emergenza diciamo cosa serve per trasformare diciamo un semplice cellulare android il mio ns ns 9 ad esempio in un in una rice trasmittente come quella che vi ho fatto vedere prima di tutto servirà un cavetto otg voi direte per cosa per collegare un dongle o chiavetto usb sdr al cellulare è una semplice antenna stile in più serviranno un paio di software gratuiti che potrete trovare sul play store prima di tutto come potete vedere questa è una semplice chiavetta usb che tramite software verrà trasformata in una ricevente radio seconda cosa è collegare l'antenna stilo semplice antenna stilo che trovate su amazon comunque vi lascio tutti i link in descrizione alla chiavetta sdr poi collegate alla porta usb c nel vostro cellulare che col dopo con cavetto otg la trasforma semplice porto usb collegate al vostro cellulare e la parte hardware è finita ora andiamo a vedere la parte software per questo ricevitore vi servono due software o due app sdr driver e rf analyzer e potrete scaricare comodamente direttamente dal play store prima di tutto scarichiamo sdr driver prima di tutto scarichiamo sdr driver eccolo qua poi rf analizzer fatto questo prima cosa da fare è installare i driver che la prima app vi fornirà basta andare qui come potete leggere i driver sono stati installati sul con successo bene fatto questo tornate su rf analizzer ora io per comodità ho cambiato il cavetto tg con questo perché mi rimane mi rimane più comodo l'installazione comunque qualsiasi cavetto otg può andare una volta avviata l'app rf analize dovete andare nelle impostazioni setting e quadigli rtl sdr che è il dongle usb che avete bene premete su play ecco fatto vi apparirà direttamente lo spettro delle frequenze in questo caso 97 megahertz così potrete scorrere nelle varie frequenze qua sotto c'è lo spettro delle frequenze come potete vedere qui c'è molto disturbo possa andare su una frequenza vhf tipo uguale 144 025 megahertz qui sono presenti le demodulazioni am fm lsb usb e tutte le altre io metto ora io ho cambiato un attimo il setup perché ho messo direttamente un'antenna per la banda materiale 144 megahertz dato che io già la possedevo e per centrare direttamente meglio la banda uso questa ma basta anche accorciare per la lunghezza d'onda adatta questa qui comunque adesso vi faccio sentire che riceve perfettamente ricapitolando una volta entrati nell'app premete play l'app riconosce la vostra pennetto usb sdr qua in setting dovete dirgli su style rtl sdr da qui date la frequenza che volete ascoltare il mio caso per fare la prova 144 0 25 che è che è la frequenza che utilizzo adesso questo momento per fare il test come potete vedere il test su una banda la tematoriale e poi dovete dargli la modulazione nel mio caso nfm come potete vedere prova 12 prova 12 vedete qua lo spettro cambia perché riceve su quella frequenza di prova 12 prova 12 12 prova 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 altre cose potete fare con rf analyzer è salvare direttamente la frequenza che state ascoltando nei preferiti potreste ascoltare anche le normali radio faccio un esempio 98 demodulazione sentire questa è una malissima radio fm che 17 e 45 minuti tra pochissimo giocheremo una di voi al nostro gioco qui ascolterete le frequenze delle radio commerciali quindi non solo radio ascolto radio amatoriale ma anche radio am fm e tutto quello che riuscirete a captare nell'etere io vi consiglio di provare perché è una pratica molto divertente soprattutto in montagna dove a grandi altezze o in cima a un monte la ricezione molto più semplice con questo setup però non potete trasmettere ecco solo ricevere invece con questa riuscirete anche a trasmettere ma per questa serve la licenza radio motoriale e il nominativo in descrizione vi lascio tutti i link ai dongle sdr ora questo è veramente il modello base costa pochissimo 10 15 euro 20 massimo spedito ma su amazon trovate anche almeno io vi consiglio un altro dongle che è della noelec che è un bond eccezionale costa poche decine d'euro e fa veramente tutto ha una ricezione veramente ottima e se volete divertirvi anche nel radio ascolto montano con questo setup da poche decine di euro potreste avere delle delle soddisfazioni spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando nel radio ascolto rispettate le normative italiane quindi non divulgazione dei contenuti che ascoltate eccetera 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 e se volete prendere la licenza da materiale è anche meglio spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like iscriviti al canale un saluto a tutti